Salve a tutti ragazzi, questo è un tutorial per imparare a risolvere un cubo di Rubik 2x2x2. Il cubo di Rubik 2x2x2 non è altro che l'unione di tutti gli angoli di un normale cubo di Rubik 3x3x3. Infatti qui non abbiamo né centro e neppure tutti gli spigoli, che sarebbero questi pezzi qui, che formavano la cruce. Per risolvere un cubo di Rubik 2x2x2 pertanto è necessario saper risolvere il 3x3x3, o almeno saper risolvere tutti gli angoli del 3x3x3. Partiamo col mischiare il nostro cubo. Perfetto, è abbastanza mischiato. Scegliamo un colore come punto di riferimento. Io mi scelgo l'arancio. Ho bisogno di inserire un angolo vicino a questo angolo arancio qui, che abbia come colore primario l'arancio, sì. Però anche il colore sottostante deve essere coordinato con l'angolo vicino. Quindi, se qui abbiamo arancio verde, qui dovremmo avere anche arancio verde. Cerchiamo un altro arancio verde, e lo trovo qui, arancio verde. Come faccio a inserire quest'angolo qui sopra? Come faccio? Basta semplicemente spostare il pezzo da questo lato, abbassare, inserire e tornare su. Così facendo, abbiamo costituito due pezzi di una faccia. Giriamo il cubo, in senso orario, e guardiamo i seguenti colori. Abbiamo arancio bianco, quindi qui dovremmo mettere arancio bianco. Cerchiamo l'angolo arancio bianco, se è presente, nello strato inferiore, ma non lo è. Pertanto significa che uno di questi due angoli sarà quello con l'arancio bianco, che è proprio questo qui. Come faccio a inserire questo qui? Basta semplicemente abbassarlo. Andiamo ad un altro caso ancora. Qui ci manca, quindi ruotando il cubo di altri 90 gradi, notiamo che ci serve l'arancio e il blu. Qual è l'arancio blu? Lo troviamo qui. Come facciamo a inserire questo pezzo qui? Bisognerà ricorrere, tipo una tecnica del 1-2. Allora, l'angolo così presente con l'arancio frontale si trova sulla posizione di 1. Il 2 è questo qui. Quindi facciamo 1-2. 1-2, alla faccia superiore. 1 si trova il pezzo, 1 va a finire. È come se facessi questo movimento. Però a noi non ci serve qui il pezzettino. Quindi ruotiamo il pezzettino presente sullo strato inferiore. 1-2, 1-2, 1 si trova, 1 va a finire. È qui che ci interessa? No. Ruotiamo ancora. 1-1 non è buono. Mentre così, 1-1 va bene. Come facciamo a inserire questo pezzo senza spostare questo qui? Basta spostarlo. Siccome il movimento da fare è quello di alzare a destra, il pezzettino lo spostiamo a sinistra. Abbassiamo il pezzettino, l'uniamo e risaliamo. Penso che sia abbastanza facile costituire il primo strato. Per quanto riguarda il secondo strato, dovremo ricorrere a degli algoritmi. Algoritmi che troveremo in un tutorial per il 3x3x3. Vi mostro però quali sono gli algoritmi degli angoli. Per prima accusa, basterà inserire un pezzo con i colori giusti, tipo questo qui. Abbiamo il rosso sopra, il bianco e il verde. E ce lo spostiamo in tutto a sinistra. In alto a sinistra. E guardiamo gli altri angoli. Qui l'angolo da unire dovrebbe essere quello con rosso-verde, come abbiamo insegnato prima, e quel colore che c'è qui, il giallo. E non è quest'angolo. Ruotiamo ancora il cubo. Qui vedo che quest'angolo è corretto perché ha i colori proprio rosso, giallo e blu, solo che è girato in senso anti-orario. E quest'altro è anche da sostituire perché non è giusto. Non presenta i colori rosso, blu e bianco. Cosa bisogna fare? Bisogna fare il Niklas. Il Niklas è una semplice mossa, che adesso vi mostrerò, la quale ci inverterà questi tre angoli. Allora, proviamo a eseguire il Niklas. Quindi ricordo il pezzettino buono tutto a sinistra. E facciamo. Su, sposto. Su, sposto. Giù, sposto. Giù, sposto. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Questo risulta giusto. Però gli altri due non lo sono. Adesso, sapendo che ci sono due angoli corretti posti in modo frontale, ce li spostiamo, questi due angoli corretti, a sinistra. Entrambi a sinistra. Adesso faremo una mossa, la quale ci invertirà solo questi due angoli. Avendo questi due corretti, ricordo, corretti in senso non di rotazione, ma in senso di posizionamento. Sono corretti entrambi. Ce li portiamo tutti a sinistra. Ed eseguiamo la seguente mossa. Guardando il cubo, così, con la faccia rossa, opposta all'arancio e al rosso, davanti. Facciamo indietro, indietro, avanti, avanti, indietro. Poi facciamo su, su, avanti, avanti, indietro, indietro, indietro e sinistra. Adesso, se guardiamo il cubo, tutti i pezzi sono corretti. Quindi, basta solo orientarli. Per farlo, c'è un semplice algoritmo da imparare, che sarebbe. Quindi, mettiamo l'angolo da girare a destra, l'angolo, e facciamo r' di primo rd. r' di primo rd. Come vedete si è sistemato. Andiamo a sostituire quest'angolo con un altro da sostituire. Non guardate la faccia di sotto. Si rimetterà a posto. E seguiamo. C'è lo stesso algoritmo che abbiamo appena visto. Quindi, r' di primo rd, 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 non mi serve. Pertanto, il cubo 2 per 2 per 2 è stato risolto. Rd, r' di primo rd, r' di primo rd. Rd, r' di primo rd.